Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno, sono Vincenzo Lilli, neopresidente del Coricom, comitato nominato a dicembre 2021. Gli altri componenti sono la vicepresidente, qui alla mia destra, l'avvocato Alessio Caseria e l'avvocato Marco Bria Monte. Per esigenze del rispetto delle norme Covid non può essere presente. Il Coricom è un ente nominato dal Consiglio regionale e per esso svolge attività di consulenza e di sorveglianza. Nel contempo svolge anche deleghe delegate dall'Agicom sul territorio locale e inerenti attività televisive, giornalistiche e elettorali. Il nostro obiettivo in questi cinque anni è portare il Coricom a conoscenza soprattutto dei giovani e all'interno dei giovani del mondo dell'utilizzo che avviene dei social e della tv e quindi con particolare attenzione al discorso del cyberbullismo e delle attività televisive. Nello specifico passo ora la parola al vicepresidente che parlerà in modo particolare di due attività, due obiettivi che vorremmo raggiungere in questi cinque anni. Buongiorno, io sono Alessia Caserio, avvocato penalista e neoeletta vicepresidente del Coricom Piemonte. Come accennava il presidente, numerose sono le funzioni esercitate dal Coricom. Naturalmente non starò a delencarvele tutte in questa sede. Mi limiterò a citare una di quelle più rilevanti e mi riferisco alla gestione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche, intendo pay tv e telefonia, e gli utenti locali. Le procedure di risoluzione di queste controversie sono due, la conciliazione e la definizione. Il tentativo di conciliazione è obbligatorio, nel senso che il suo esperimento costituisce condizione di procedibilità per agire in giudizio ed è gratuito. Si tratta di un meccanismo ormai consolidato nel tempo, particolarmente efficace. Peraltro dal 2018 è entrata in funzione la piattaforma telematica di gestione delle procedure denominata concilia web, la quale ha consentito anche durante il periodo di lockdown e di lavoro in modalità agile di riuscire a fare fronte a tutto il contenzioso. Sempre a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha limitato fortemente gli accessi agli uffici, si è implementato il servizio telefonico per tutta la giornata lavorativa, consentendo in questo modo agli utenti di poter chiamare in qualunque fascia oraria. Ho accennato anche alla definizione delle controversie, che è l'altra eventualità che l'utente ha a disposizione avanti al Corelcom nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo. Anche questa procedura è totalmente gratuita e non necessita dell'assistenza tecnica di un difensore. Visto il perdurare purtroppo della pandemia, stiamo valutando anche per i prossimi anni di attivare un servizio ulteriore di videosportello, quale ulteriore canale di comunicazione che permetterebbe ai cittadini di interfacciarsi direttamente con i funzionari Corelcom e gli operatori dell'URP per ottenere tutte le informazioni e l'assistenza necessaria. Vi ringrazio per l'attenzione e una buona giornata a tutti. Buongiorno, grazie per l'opportunità di presentare la nostra associazione. Sono Fulia Pedani, presidente del Comitato Andos di Torino e socio fondatore. L'Andos è un'associazione molto antica, nasce nel 1976 e ha portato avanti i sogni e i desideri delle donne operate al seno. Ha ottenuto grandi successi negli anni e abbiamo fatto sì che si riducessero gli interventi facendo pressing, che si desse maggiore assistenza. Ma la cosa importante è che oggi, e che mi preme di sottolineare, oggi si può veramente guarire se si appoggia ai programmi di screening e si fa una diagnosi molto precoce con lesioni piccoline, linfonodi negativi e la possibilità proprio di guarire. A questo proposito, visto che molti hanno timore della chemioterapia, le nostre donne, le nostre volontarie, le nostre pazienti hanno voluto offrire alle altre donne un video nel quale si racconta un pochino quanto la chemioterapia oggi si è cambiata e con essa le cure biologiche consentendo una buona guarigione ma anche una buona qualità di vita. Molte sono le opportunità che ci sono, ci sono delle attrezzature, noi le abbiamo anche acquisite nella divisione di oncologia delle molinette per ridurre il tasso di neuropatia, abbiamo aperto una sala benessere dove si riducono gli effetti collaterali che si possono avere sulle mani, sui piedi, sulle unghie, massaggi anche di rilassamento che aiutano a cedere alle cure con maggiore tranquillità, spendere meglio il tempo d'attesa ma soprattutto non avere gli effetti collaterali. Le nostre donne molto si sono impegnate e bisogna tenere presente tanti aspetti positivi che oggi ci sono, la possibilità di essere reinserite nel mondo del lavoro e nella vita normalmente. Il grosso problema rimane sempre anche il numero di donne che subiscono violenza sia in corso di terapia sia prima della diagnosi di malattia e una grande percentuale viene anche abbandonata. Questo fa sì che le donne non accedano, non possono accedere nel modo adeguato alle cure. Per cui noi abbiamo asperto questo grosso faro su questo problema regalando alle molinette due panchine all'ingresso in modo da ricordare la violenza, quanto sia esecrabile e assolutamente non giustificabile mai in nessun caso e quanto le donne operate al seno vadano incontro invece a fenomeni di violenza. Il video che abbiamo costruito con le nostre donne fa vedere quanto oggi anche donne metastatiche perché una buona parte di esse metastatiche anche da tempo possa accedere alle cure con semplicità, con dei presidi di supporto che una volta non avevamo ma che oggi ci sono per poter garantire una buona adesione alle cure ma soprattutto ci sono anche problematiche che riguardano il reinserimento ma anche la possibilità alle donne giovani di poter avere una gravidanza. Oggi sono più di 500 le donne che dopo un tumore al seno hanno avuto la possibilità di avere dei bambini senza grossi problemi e io sono zia di bambini anche un po' grandi, mi ritengo la loro zia perché le loro madri hanno avuto dei figli e forse il più vecchio, il decano, oggi ha 15 anni. Io sono molto orgogliosa di questo e soprattutto orgogliosa del fatto che grazie anche al pressing delle associazioni, non solo la nostra ma la nostra insieme ad altri, si è riuscita ad avere sia la preservazione della fertilità che la gravidanza assistita nelle donne giovani al di sotto dei 35 anni. Il lavoro è tanto, l'impegno è sempre forte, bisogna andare avanti, bisogna che ci aiuteate perché noi abbiamo bisogno dell'aiuto dei cittadini, delle altre donne per portare avanti questi discorsi che consentono alle donne, uno di guarire, due di essere reinserite nel mondo del lavoro e nella loro vita sociale al 100% e soprattutto che possano condurre una vita normale senza problemi. Ringrazio tutti quanti dell'opportunità che ci avete dato e seguiteci sia sulla pagina di Facebook e anche sul nostro sito. Grazie a tutti. Sono Maria Elisabetta Villa, presidente della DBA Italia ODV e sono affetta da anemia di Dion Blackfang. L'anemia di Dion Blackfang è una malattia genetica rara caratterizzata da una mancanza di globuli rossi fin dalla giovane età. Di questa malattia la dottoressa Paola Quarello parlerà successivamente di cosa sta già facendo l'Università di Torino e il Dipartimento della Salute presso l'OIAM e l'ospedale Regina Margherita di come viene trattata della gestione dei pazienti e della gestione e ricerca sulla malattia. Ancora oggi la ricerca sulle malattie rare è molto poca, purtroppo anche i fondi sono sempre meno, anche a causa di questa pandemia da Covid-19. Noi della DBA Italia ODV quest'anno ci vogliamo occupare di continuare la ricerca scientifica, prima di tutto assumendo una persona che si occupa del registro italiano per l'anemia da Dion Blackfang e la collaborazione con tutti i centri di riferimento italiani. Ogni centro di riferimento nelle ematologie degli ospediati iperpediatrici sono collegati con questo registro e possono inserire i pazienti e le migliorie e le cure dei pazienti già in essere. Questo porta a un vantaggio a conoscere di più la malattia, a conoscere il paziente e le differenziazioni genetiche. Noi della DBA Italia ODV in questi anni abbiamo donato più di 500.000 euro in ricerca, sia di macchinari, di attrezzature da laboratorio e anche di personale che con le nostre borse di studio ha potuto continuare la ricerca scientifica. Vengono considerate malattie rare in Europa ogni malattia in cui è affetta una persona su 200.000 abitanti. Oggi in Italia si contano più di 780.000 soggetti, persone, italiani e nonna, che hanno queste malattie. Alcune sono già scoperte e danno un nome, molte, molte sono ancora senza nome e ancora non conoscibili. Per cui proprio c'è ancora tanto, tanto da fare per le malattie rare e soprattutto quest'anno, al 28 febbraio 2022, c'è la giornata mondiale delle malattie rare. Per non dimenticare mai chi ha una di queste malattie. Vi prego di sostenerle e soprattutto se avete un paziente con una malattia rara, di far sì che trovi un'associazione che lo sostenga e lo supporti nelle sue scelte, sia di cura ma anche di vita. Vi ringrazio molto. Buongiorno a tutti, sono Paola Quarello, sono una pediatra, lavoro presso l'oncoematologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, diretto dalla professoressa Franca Fagioli. Da molti anni mi occupo di anemia di Black Van Diamond, sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista della ricerca. L'anemia di Black Van Diamond è una malattia rara, si manifesta come un'anemia grave solitamente nel primo anno di vita. Per alcuni pazienti la terapia con il cortisone permette una correzione di questa anemia, ma per una buona percentuale di pazienti è necessario instaurare una terapia regolare con delle trasfusioni di sangue con tutte le complicanze che ne conseguono. Ad oggi l'unico trattamento curativo è il trapianto di cellule staminali emopoietiche. La DBA Italia ODV ci ha fortemente supportato in tutti questi anni per la realizzazione di diversi progetti, primo fra tutti il registro italiano dell'anemia di Black Van Diamond. Il registro è stato creato ormai più di 15 anni fa, è attivo e ha arruolato circa 300 pazienti. Questi pazienti vengono trattati in diversi centri dell'Associazione Italiana di Oncomatologia Pediatrica, questo a garanzia della qualità delle cure. Per quanto riguarda la ricerca, il laboratorio di ematologia pediatrica presso l'ospedale infantile Regina Margherita, diretto dal professor Ugo Ramenghi, ha permesso un contributo fondamentale anche a livello internazionale. Importante è stato il lavoro delle dottoresse Emanuela Garelli e Adriana Carando, grazie alle quali abbiamo identificato nuove caratteristiche della malattia e anche nuovi meccanismi alla base della malattia stessa. Molto importante inoltre la collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale, con la professoressa Irma Bianzani, dove sono in corso diversi progetti ad identificare nuovi trattamenti per la malattia stessa. Molto è stato fatto, molto c'è ancora da fare, per cui per noi è fondamentale il supporto di DBA Italia o DV. Grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno, sono Giuseppe Matichecchia, responsabile dello sportello lavoro di Anfas Piemonte Onlus. Oggi vi presento le attività che caratterizzano il nostro sportello dedicato all'inserimento lavorativo di persone con disabilità, disabilità intellettiva, fisica e psichiatrica. Operiamo sul territorio dell'intera regione piemontese, nel territorio di Torino, nel territorio di Cuneo specialmente. I nostri servizi sono caratterizzati da metodologie dedicate all'inserimento mirato di persone con disabilità nel mondo del lavoro. L'inserimento lavorativo di per sé è molto caratterizzato nel sistema piemontese, ma per la disabilità, per persone con disabilità, abbiamo pensato di mettere in campo delle metodologie specifiche, in grado quindi di coinvolgere i soggetti del territorio, le famiglie, psicologi, orientatori, educatori, fornendo quindi un servizio multidisciplinare. Non è semplice inserire le persone nel mondo del lavoro in questo periodo, a maggior ragione con disabilità, persone con disabilità. Quindi i nostri servizi si caratterizzano tantissimo per andare incontro alle esigenze sia delle aziende, alle quali chiediamo cosa cercano, cosa vogliono, che cosa si aspettano da un lavoratore, parlando con lo stesso lavoratore, il nostro ragazzo, la persona con disabilità, ma andiamo anche oltre. Cerchiamo di parlare con la famiglia per cercare di conciliare tempi di lavoro e altre attività della persona, cercando quindi di creare un contesto, una situazione che possa garantire le ottime condizioni per il lavoro. Non è un semplice incontro domanda offerta, è qualcosa di molto più complesso che merita quindi il coinvolgimento di una struttura come Anfas. Quindi i nostri servizi, a differenza quindi di tutto ciò che rappresenta l'inserimento lavorativo per una persona normodotata, sono multidisciplinari e caratterizzati quindi da un coinvolgimento di molteplici professionalità. Questo rappresenta sicuramente un punto di forza, qualcosa che caratterizza la nostra attività e che fa sì che non soltanto si cerchi e si trovi un lavoro, ma la cosa più importante è che venga mantenuto. Quindi forniamo servizi di tutoraggio, assistenza, anche a contratto avvenuto. Siamo sempre disponibili a rispondere alle richieste delle aziende, insegniamo come si legge una busta paga, come ci si relaziona con i colleghi, come rispondere alle giuste sollecitazioni che il mondo del lavoro mette sempre a dura prova ogni singola persona. Grazie dell'attenzione, buona giornata. Buongiorno a tutti, sono Vittorio Berilacqua, sono il vicepresidente dell'associazione sportiva Joyful, l'associazione che nasce nel 1965 da un gruppo di amici che abitavano tutti in un condominio, che decidono di costituire uno Sciclub. E nasce questo team che chiamano Sciclub Joyful Brothers, i fratelli gaudenti, i fratelli allegri, in quanto proprio questo era lo spirito di quella associazione, quello di creare un'associazione sportiva in cui tutti i componenti fossero degli amici e che si divertissero tutti insieme. Il nostro Sciclub assume poi negli anni, alla fine degli anni settanta, questo marchio un po' particolare, la J con le stelle e le strisce, che non vuole essere legata al discorso americano per nessun motivo politico o altro, ma semplicemente perché in quegli anni andava per la maggiore un sacco di gadget e di simboli americani. Ricordiamo il numero uno di una grande casa di motociclette americane, oppure il segno di vittoria, che veniva utilizzato con le stelle e strisce. Anche in quel periodo è stato un po' clonato questa moda per creare il nostro simbolo Joyful, che ha avuto successo e piaciuto e rimane tuttora. Quando abbiamo compiuto 50 anni abbiamo creato questa questa immagine, questa divisa che assomiglia a un po' una bandiera vintage, un po' lavata, un po' vecchia e è piaciuta molto ai nostri soci, ai maestri di sci e quindi continuiamo a utilizzarla. Che cosa facciamo noi come Sciclub? Soprattutto la nostra filosofia si riassume in allievi, atleti, amici, quello che è un po' il nostro slogan, cioè noi cerchiamo di fare dello sport portando l'amicizia, portando i valori della lealtà dello sport senza un agonismo esasperato, cercando di tenere i nostri ragazzi in un modo tale che rimangano amici anche al di fuori delle piste di sci e dello sport. Un altro nostro slogan è proprio sport, passione e divertimento che riassumono un po' queste cose. È molto frequente che i nostri ex allievi iscrivano i loro figli a loro volta nel nostro Sciclub e di questo ne siamo molto orgogliosi. Abbiamo anche un'attività che supera la parte invernale della neve, anche durante l'estate, a parte lo sci estivo, ci sono gite, portate le tendate in quota con i maestri di sci che accompagnano i ragazzi a fare delle escursioni, del trekking, i cani da slitta, le passeggiate così in montagna. Quindi cerchiamo di dare un'attività, diciamo, a tutto tondo anche nei periodi in cui la neve è assente dalle piste. Un altro argomento che ci sta molto a cuore è quello dell'inclusione. Siamo molto contenti e molto fieri di avere tra i nostri atleti un ragazzo che ha un handicap intellettivo, è un atleta a Special Olympics e fra l'altro molto bravo e che è perfettamente integrato con i nostri gruppi, con i nostri amici, con i nostri ragazzi. Devo dire in una maniera vera dove non ci sono veramente barriere tra i ragazzi e Luca. Si fa la vita insieme, anche nelle trasferte si sta in camera insieme. Assolutamente un'attività totalmente inclusiva e fra l'altro lui è molto bravo a sciare e il medagliador Special Olympics da tre anni in gigante discesa e quindi ci fa molto piacere avere tra i nostri atleti un ragazzo che veramente sta bene con noi. Di questo ne siamo anche fieri e questo fa parte un po' del sistema di educazione che cerchiamo di dare ai nostri ragazzi in questo complesso di attività di sport e di educazione alla vita. Grazie. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.